Che caratteristiche hanno i pazienti che oggi afferiscono alle cardiologie? Sono cambiate rispetto a qualche decennio fa? I nuovi farmaci anticoagulanti orali hanno cambiato la vita dei pazienti e in qualche modo l'organizzazione dei centri? Lo abbiamo chiesto al dottor Pompilio Faggiano in occasione di un incontro in corso a Milano organizzato per fare il punto sull'impatto clinico, economico e sociale di questi farmaci. Qual è il paziente cardiopatico che oggi arriva all'attenzione delle cardiologie? Com'è cambiato rispetto a 30 anni fa? È cambiato notevolmente. 30 anni fa solitamente i soggetti erano di età inferiore a 65 anni, spesso anche più giovani. Adesso invece sono sempre pazienti o molto frequentemente pazienti decisamente più anziani ma soprattutto gravati da un carico di comorbidità molto importante. Sono spesso pazienti con insufficienza renale, con malattia respiratoria cronica, con diabete, con ipertensione complicata, spesso con un certo grado di decadimento cognitivo. Questo rende molto complicato il trattamento e le scelte terapeutiche perché magari le decisioni sono veramente complesse. Decidere se fare un'angioplastica o un infarto in atto a un paziente di questo tipo, se decidere se sostituire una valvola ristretta a un soggetto di età superiore di 85 anni sono decisioni veramente complesse. E come si prendono queste decisioni? Cioè il supporto dei colleghi come avviene? Attraverso le consulenze? Ci sono delle riunioni di reparto diciamo così rutinarie? Come riuscite appunto ad avere il meglio della conoscenza degli altri colleghi che lei ha chiamato in causa, quindi il nefrologo, quindi il diabetologo e così via? Sì, le scelte terapeutiche non possono prescindere da una valutazione multispecialistica. Addirittura in molte cardiologie come la nostra è stato creato il cosiddetto ARTIM, quindi una riunione generalmente periodica, noi le facevamo un paio di volte alla settimana, in cui insieme ai cardiologi e ai vari tipi di cardiologi, c'è il cardiologo clinico, c'è l'emodinamista, c'è chi fa l'ecocardiogramma, ci sono gli altri specialisti, c'è l'anestesista, c'è il cardiochirurgo, c'è il geriatra, molte volte il geriatra è indispensabile per valutare il grado di decadimento cognitivo, c'è l'ematologo, in molti casi si tratta di gestire delle terapie con farmaci che agiscono sulla coagulazione del sangue e qui le competenze specifiche dell'ematologo sono importanti. E solo al termine di queste riunioni, che a volte sono prolungate ed animate, si giunge ad una decisione terapeutica definitiva o più o meno definitiva. Per il bene del paziente ovviamente. Senti, dottor Faggiano, i nuovi anticoagulanti orali che sono poi al centro dell'incontro di oggi, ecco come hanno cambiato la vita dei pazienti e anche un po' magari l'organizzazione dell'ospedale, visto che dovrebbero, almeno in teoria, semplificare un po' l'utilizzo dell'anticoagulazione? Beh, i nuovi anticoagulanti, l'introduzione dei nuovi anticoagulanti orali innanzitutto è stata particolarmente importante perché ci ha portato a riflettere maggiormente sul problema della fibrillazione atriale. In passato, in molti soggetti anziani, in fibrillazione atriale l'unico trattamento raccomandato era l'aspirina a basse dosi che poi si è dimostrata inefficace. Mentre i nuovi anticoagulanti ci hanno portato a pensare che è indispensabile un trattamento aggressivo per ridurre il rischio di ictus in questi soggetti, avere dei farmaci che richiedono una somministrazione magari modulata sulla base della funzione renale, ma una somministrazione quotidiana senza aggiustamenti continui della posologia, senza la necessità di controlli ravvicinati del cosiddetto INR, quindi dell'effetto dell'attività anticoagulante, ha molto favorito l'estensione dell'utilizzo e di un trattamento efficace in questi soggetti, quindi veramente utile.